In realtà questo governo è basato su due pilastri, il pilastro fondamentale è il trasformismo politico, perché abbiamo due forze politiche, il PD e il 5 Stelle, che se ne sono dette di tutti i colori non dieci anni prima, non cinque anni prima, ma fino al giorno prima. E quindi è chiaro che la cifra di questo governo è il trasformismo politico. Dall'altra parte c'è un impegno che non è mai esistito dal punto di vista anche mediatico, dei poteri che governano il mondo a favore di questo governo, che il Presidente degli Stati Uniti ficasse il naso sul governo italiano, è logico, Casini sa benissimo che non esiste nessun Ministro della Difesa italiano che non abbia l'ok del Dipartimento di Stato, ma non sta scritto, non si vede. Invece Trump questa volta ha fatto l'endorsement verso Conte, lo stesso Bill Gates ha fatto questo endorsement, per non parlare poi dell'Unione Europea, Moscovici, Juncker, addirittura ha detto faremo fare a Conte, ha svelato un segreto, neanche tanto segreto, faremo fare a Conte quello che abbiamo fatto fare a Tsipras. Addirittura poi la signora Lagarde, che era la Presidente uscente del Fondo Monetario Internazionale, questi personaggi sono come nelle porte girevoli degli hotel, esce da una parte ed entra a fare il Presidente della Banca Centrale Europea, si è permessa 4-5 ore prima della formazione del governo di dire che Gualtieri andava bene come Ministro dell'Economia, poteva dirlo 4-5 ore dopo, è vero che c'entrano e contano molto di più dei governanti italiani, ma non hanno neanche più la parvenza di coprire, è un'arroganza del potere. Questo governo oggi, altro che si disse giallo-rosso, ho sentito prima parlare buttafuoco dei comunisti, i comunisti con questo governo proprio non c'entrano nulla.